Dopo lo scontro fra i candidati alla presidenza negli Stati Uniti è stata la volta dei vice in pectore, Tim Cain per la Clinton e Mike Pence per Donald Trump, una battaglia che ha visto secondo i primi sondaggi il candidato repubblicano imporsi, un dibattito incentrato soprattutto su di un tema, la distruzione sistematica dell'avversario. Così Cain, Trump non fa altro che denigrare i nostri militari, Joe McCain non è un eroe, i generali debbono essere licenziati, io ne capisco più di loro, vuole risolvere vecchie alleanze, la nato è obsoleta, lavoreremo con Israele solo se pagano la loro parte, ama i dittatori, ha i suoi idoli, Vladimir Putin, Kim Jong-un, Muammar Gaddafi e Saddam Hussein. E cosa più pericolosa, Donald Trump crede davvero che il mondo sarebbe più sicuro se più nazioni avessero armi nucleari. Nemmeno Mike Pence è andato leggero con l'avversario. La priorità di Hillary Clinton, ha detto, era rimettere in sesto la Russia. Una volta fatto, la Russia ha invaso la Crimea e adesso i piccoli leader russi dettano i termini alle Nazioni Unite, a tal punto che gli Stati Uniti si sono ritirati dai dialoghi sul cessato il fuoco in Siria, mentre Putin ha messo su un sistema di difesa missilistico in Siria. Dobbiamo riconquistare una leadership americana. Entrambi i vice hanno fatto una buona impressione, forse più degli stessi candidati alla presidenza, ma Pence aveva il compito più difficile, sostenendo Trump, e forse per questo la sua performance è stata particolarmente apprezzata dagli spettatori.